Ci siamo lasciati alle spalle una vergognosa emergenza cimiteriale e oggi abbiamo messo a sistema un servizio cimiteriale in questa città, credo, degno delle città europee. Abbiamo acquistato una serie di mezzi che sono utili al decoro e alla funzionalità. Abbiamo macchinine che possono accompagnare le persone anziane, montascale per accedere alle aree meno facili. Abbiamo comprato una spazzatrice, abbiamo comprato tutta una serie di azzezzature che ci consente di tenere il cimitero pulito con meno personale e soprattutto abbiamo dotato tutte le fontane di acqua, abbiamo comprato 80 scale che sono presenti in tutti i loculi del cimitero. I bagni sono funzionanti, per questi giorni di festività implementiamo il servizio con bagni chimici, ci saranno presenti del personale della protezione civile che accompagnerà e darà indicazioni anche rispetto. Abbiamo fatto una serie di aree che sono, non dico interdette, ma inibite al passaggio perché ci sono lavori. Gli orari di apertura per tutti e tre i cimiteri comunali sono dalle 8 alle 18 con ultimo ingresso alle ore 17. Diciamo l'ultimo ingresso alle 17, alle 18 la chiusura. Per qualsiasi cosa gli ingressi i cittadini troveranno indicazioni e persone lì pronte a dare supporto e indicazioni per l'utilizzo di tuizzi. Grazie.